Il governatore dell'Eritrea, generale Guzzoni, il federale, tutte le autorità militari e civili e rappresentanze operaie, nella ricorrenza del barbaro e ciglio dei 78 dipendenti della ditta Gondran, avvenuto nel cantiere di Mailala presso il Marem, sono convenute nel piccolo cimitero eretto sul posto, dove un cappellano militare ha celebrato la messa al campo e benedetto le tombe dei gloriosi lavoratori caduti per la conquista dell'impero.